scoperto un altro mondo finché non trovi qualcuno che ha già le conoscenze non credo che impari da sola da sola no in 12 settimane ho cambiato il modo di allenarmi di organizzarmi e vedo io mi vedo molto cambiata mi vedo più muscolosa che sono più snella le gambe sono più snelle sono più toniche posso dire che vale la pena di provare avete fiducia in voi stesse avete fiducia in ambra con il suo team dovete fare con il piacere questo lo voglio e lo devo avere